Buongiorno ragazzi e ben ritrovati sul canale. Allora, passata la pausa delle nazionali, si ritorna a parlare di campionato e quando si torna a parlare di campionato si torna a parlare di scommesse. Allora, ci eravamo lasciati con un video dove mi auguravo di essere più fortunato della giornata precedente e tuttora non riesco a capire se sono stato più fortunato oppure è andato peggio. Forse fra le due, alla fine dei conti, sono stato più fortunato. Beh, innanzitutto perché su tre ne ho chiusa una. Ma poi perché se tu su nove partite che giochi, ne sbagli quattro e comunque riesci comunque a finire a pari, diciamo che è un buon risultato. Allora, diciamo che non erano partite benissimo perché la prima partita che si era giocata al venerdì, la Sampdoria, dove io avevo messo 1x fino a un quarto d'ora dalla alla fine, vinceva in casa 1-0, poi si è fatta pareggiare al novantesimo addirittura superare dal Venezia. Quindi già persa. Al sabato poi è toccato il Borussia Dortmund che dopo un quarto d'ora era in vantaggio per due reti a zero e nel secondo tempo prima ha accorciato le distanze e poi è pervenuta la squadra in trasferta, in questo caso l'Aidenheim, a pareggiare i conti. Quella era una quota, mi pare, che era data 1-22, quindi anche lì un disastro. Poi però le cose si sono raddrizzate, diciamo che dopo tanta sfortuna ho avuto un pizzico di fortuna con il Real Madrid che alla prima in casa stava addirittura perdendo nel primo tempo appunto in casa e dopo all'inizio del secondo tempo è arrivato subito il gol del pareggio. Infine al novantaseiesimo ci ha pensato nuovamente Bellingham al suo quinto gol in campionato a dare la vittoria al Real. Poi alla sera il 2 della Juve ha chiuso i conti diciamo e ha fatto sì che abbiamo fatto pari questa volta. Quindi diciamo che poteva andare meglio perché in una comunque si è sbagliato solo la Sampdoria, mentre nell'altra sbagliato il 3 su 3, che è incredibile. Porto, Borussia Dortmund e il Manchester. Il Manchester che anche lui ha perso al novantaseiesimo, ha preso il gol del 2-1, poi è arrivato anche il 3-1, il Porto che non ha battuto in casa la Rauca. Un disastro insomma. Speriamo che non sia sempre così. Comunque, veniamo noi. Allora, le proposte di questa giornata sono queste. Allora, la prima giornata, scusate, la prima giocata Feyenoord-Erenven 1, Manchester United-Brighton-Gol e Monza-Lecce-Gol. Allora, qui il Feyenoord è nettamente favorito su l'Erenven, infatti credo che la quota sia 1,23, bassissima. Penso che il Feyenoord non abbia problemi a battere l'Erenven. Manchester United-Brighton-Gol mi sembra abbastanza ovvio, visto che tutte e due hanno un modo di giocare che creano tanto, concedono tanto, quindi penso che sia una partita spettacolare. Se pensiamo solo che il Brighton, finora nelle sue partite, c'è sempre stato un'ora tra mezzo, quindi partite ricche di gol. Vediamo se anche questa volta sarà così. Monza-Lecce, ecco, Monza-Lecce è una di quelle partite che può finire 0-0 come 3-2, 3-3, è imprevedibile. Io ho deciso di giocare gol qui perché comunque Lecce è in un buono stato di forma. Il Monza in casa il gol lo trova sempre, quindi si può giocare il gol. Ecco, questa è la prima giocata. Come seconda giocata, Roma-Empoli 1, come viene da ridere, Paris Saint-Germain-Nizza 1 e Villareal-Almeria 1. Allora, va bene, Roma-Empoli, la Roma non può più fare passi falsi. L'Empoli, da quello che si è visto in questo inizio campionato, credo che sia la squadra più scarsa. Una squadra molto giovane, ancora a secco di gol, non ha ancora segnato un gol, quindi io penso che la Roma se la possa far sua. Paris Saint-Germain-Nizza, anche qui il Paris lo vedo nettamente favorito sul Nizza e Villareal-Almeria idem. Qui direi che si può stare abbastanza sul sicuro, anche se di sicuro, come abbiamo visto, nel calcio non c'è nulla. Terza e ultima giocata, non potevano mettere la Juve, Juve-Lazio over 1,5, Newcastle-Brentford 1 e Real Madrid Società 1. Allora, Juve-Lazio è una partita dove vedo dei gol, vedo più che altro una partita da gol. Cioè, qua se si mette over 1,5 gol, secondo me non si sbaglia. Comunque, per stare sul sicuro, over 1,5. Newcastle-Brentford, Newcastle ha cominciato malissimo questo campionato ed è chiamato al riscatto, quindi Newcastle che ha assolutamente bisogno di trappunti. E Real Madrid che è ancora a punteggio pieno, è chiamato in casa ad affrontare la Real Società. Real Società, che ha sei punti in classifica, una vittoria e tre pareggi. Vediamo se Real Madrid riuscirà a ottenere un'ulteriore vittoria. Ecco, queste sono le mie tra giocate per questa settimana. Vediamo, cerchiamo almeno di fare meglio dell'altra volta e poi ne discuteremo insieme come al solito nel prossimo video. Quindi per adesso ragazzi vi saluto e buona giocata e buon campionato a tutti. Un bacio.